Una festa della donna all'insegna della prevenzione. L'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino ha organizzato per l'8 marzo visite ginecologiche gratuite presso gli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino. Agli ospedali di Pesaro e Fano le visite sono prenotabili telefonicamente giovedì 7 marzo dalle 12 alle 14, mentre all'ospedale di Urbino potranno essere prenotate nella stessa giornata dalle 9.30 alle 12.30. Per promuovere sani stili di vita e una corretta nutrizione, il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e il Distretto di Pesaro organizzano anche un infopoint sulla nutrizione speciale donna con un'apertura straordinaria dello sportello di consulenza nutrizionale in Via Nitti 30 a Pesaro, accessibile su prenotazione. L'8 marzo poi le segreterie delle screening oncologici per Mammella, Colon, Retto e Collo dell'Utero resteranno attive per tutta la giornata per informazioni e prenotazioni. Per l'8 marzo è stato anche attivato un numero verde che permetterà di avere informazioni e prenotare screening per la prevenzione del tumore della Mammella, della cervice uterina e del colon retto in base alla fascia d'età.